ciao sono tornata con un nuovo video acquisti con i tutorial tornerò quanto prima ve lo prometto però ancora non è il momento per me ne ho qualcuno pronto lo sapete ma non ho veramente tempo in questo periodo continuo a lavorare molto sulle commissioni e purtroppo questo mi porta via tutto quanto il tempo perché tra il lavoro e tutto il resto non riesco a stare dietro al canale quanto vorrei in ogni caso tornerò presto ve lo prometto ok premessa finita questo è il primo di due video acquisti che girerò oggi perché due pacchi sono arrivati entrambi oggi ho fatto il primo acquisto su hobby perline dove ho comprato per un ordine appunto dell'ossidiana ho puntato una luce perché volevo far vedere le luci di queste pietre visto che dopo i perlino comprato praticamente solo pietre vi faccio vedere dette ecco qua è veramente bella io avevo un po paura che l'ossidiana grigia sarebbe stata un po plasticosa invece devo dire che sono abbastanza contento tolgo la luce così vi faccio vedere il colore un po più naturale vedete senza i vari riflessi è veramente bella abbastanza trasparente piace molto oltre a questa ossidiana grigia comprato anche dell'ossidiana nera e questa è persino più bella vedete quante belle sfumature ha io avevo un ciondolo in ossidiana ce l'ho anzi e mi sono subito innamorata dell'ossidiana come pietra molto bella vetro vetro lavico no in pratica c'è una pietra lavica bellissima ok andiamo avanti l'altro filo di pietre che ho comprato è un filo di labradorite da 6 mm se non sbaglio 8 mm eccola qua ci puntiamo sopra la luce vedete ha dei riflessi viola in questo caso viola blu molto bella ne sono contenta scherzando ho detto che questa alla fine me la terra sto dando per me perché piace veramente tantissimo brillante bellissima mi piace perché è così naturale se tu la guardi sembra veramente solo un sassolino alla fine però poi nel momento in cui vedi cominci a cogliere le sfumature soprattutto la luce del sole vedi quanto brilla ed è veramente bella poi sempre da hobby perline siccome devo fare delle cose a tema un po buddista ho preso questo qui che ha un ciondolo sui chakra in ciondolo col simbolo dei chakra in color bronzo questo qui con il buddista in argento colore argento ovviamente poi ho preso un rivoli swarovski da 12 18 mm il crystal silver shade che non avevo mai preso voi sapete io un problema con la swarovski però purtroppo no non dico purtroppo ma quando me li richiedono li uso volentieri anche crystal silver shade vedete assolutamente non mi pento della scelta del colore veramente molto bello perché è un crystal però appunto è più scuro del crystal il sembra tipo un black diamond per per capire col colore carino un po più chiaro del black diamond ma insomma non riesco a spiegarmi tanto bene poi poi basta ah sì questo ho preso questo cabochon da 26 mm druzzi glass blu questo qua ecco qua questo lo userò appunto per un ciondolo che devo fare così come le pietre l'unica cosa che ho comprato in extra è proprio quel rivoli swarovski alla fine perché ho un mezzo ordine che non è completo ma siccome ho già fatto due ordini non ne posso fare un altro quindi niente tutto qui questo era l'ordine di abbi perline vi faccio vedere gli omaggi scusate mi hanno dato un omaggio non ho speso poco perché i fili di pietre ovviamente costano mi hanno dato un omaggio delle candy queste qua bianche delle preziosa 3 0 in nero e poi queste qui che sono sempre delle preziosa 11 0 in coloro argento non ho mai trovato le preziosa in colori metallizzati adesso vedremo come saranno benissimo io vi saluto su